Bandiera del mondo, il titolo del concorso vinto dagli studenti dell'Istituto Oscar Romero di Albino, indetto dalla Cisla attraverso Iscos e Anolf, due delle sue associazioni in prima linea nelle politiche dell'integrazione e della pace. Agli studenti della Valle Seriana andrà quindi in premio il viaggio in Romania, dove avvieranno la seconda fase del progetto. I ragazzi dovevano disegnare una bandiera che mettesse insieme italiani e stranieri, alunni italiani e alunni figli di immigrati stranieri, quindi di seconda generazione, quindi contro razzismo e intolleranza a favore della convivenza e dell'interculturalità. Il lavoro svolto dagli studenti è stato valutato pienamente rispondente alle finalità del progetto, mettendo in evidenza con chiarezza che l'incontro e il dialogo tra giovani di provenienza diversa permette di superare pregiudizi, oltre che ad arricchire culturalmente, umanamente e socialmente. L'elemento di originalità sta nella semplicità grafica dell'elaborato, che ha permesso alla giuria di interpretare in modo univoco il messaggio sotteso. Abbiamo pensato di creare attraverso un personaggio con dei puzzle, che ogni puzzle rappresenta la diversità, però mettendo tutto insieme forma una sola persona e tutta una persona è unica ed è uguale. Il progetto Intercultura diciamo allargato perché c'è un appuntamento prossimo. Sì, c'è un appuntamento prossimo, Voci dal mondo, è uno spettacolo che noi abbiamo organizzato e a quale teniamo veramente molto. Abbiamo iniziato il tutto con delle letture di poesie, poi i nostri ragazzi, italiani e stranieri, hanno composto delle loro riflessioni e durante questo spettacolo daremo visione del lavoro fatto.